Ha danneggiato la tapparella di un palazzo di Viagoito, poi ha sfondato i lunotti posteriori di tre auto in sosta. Ha sprangate, secondo i residenti, ma l'oggetto contundente non è stato trovato. I carabinieri di Castelfranco hanno denunciato a piede libero un ragazzo italiano di 19 anni che all'alba di ieri, in uno stato di evidente alterazione psicofisica, ha creato il caos nella zona, costringendo i proprietari delle vetture a un brusco risveglio. Carrozzerie danneggiate, fanali in frantumi, vetri sfondati. La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata e il ragazzo dovrà ora rispondere di danneggiamento aggravato. Sempre i militari di Castelfranco hanno arrestato questa mattina in via San Pio X un 32enne di origini brasiliane, sottoposto a un controllo, l'uomo, anche lui, alterato. Ha raccontato di aver subito un'aggressione, così da non venire perquisito. I carabinieri non gli hanno creduto e per tutta risposta sono stati strattonati. Addosso il 32enne aveva uno smartphone, sottratto ieri sera a un 49enne di Padova. Simulazione di reato, ricettazione e resistenza pubblico ufficiale le accuse a suo carico.